Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Cominciamo, come sempre, con l'aggiornamento dei dati. Purtroppo anche oggi una triste giornata per le marche. Il Gores ha comunicato i dati dei decessi. Si tratta di ben 23 decessi, così come ha confermato e ha detto il Presidente della Regione, Luca Ceriscioli. Non è ripetitivo, aggiunge, ma è sentito e condiviso con tutta la Regione l'abbraccio virtuale a tutti coloro che soffrono e a tutte le persone che lavorano giorno e notte in questa emergenza. Rinnovo a tutti, ha detto Luca Ceriscioli, rinnovo l'appello a restare a casa. Non metterci a rischio e quindi non ammalarci. È il miglior aiuto che possiamo dare alle persone più deboli e al personale sanitario che stiamo ammirando ogni giorno per il lavoro infaticabile che sta portando avanti. Queste sono le sue parole che adesso risentirete anche nel servizio che ha preparato Francesco Salvaglio. Il numero dei decessi totali salgono a 114. Ad annunciarlo è il bollettino del gruppo operativo regionale emergenze sanitarie delle Marche. Nella giornata odierna i decessi risultano 23, tra cui 4 erano residenti a Vallefoglia, un 88enne di Acqualagna, 82enne di Gabicce Mare, una 91enne di Monte Labbate, un 86enne di Petriano, 6 di Pesaro e un 58enne di Tavuglia. A Fano invece si sono registrati due decessi, una 63enne con tumore polmonare metastatico e una 61enne con sindrome di Down. Tutti avevano patologie pregresse. I test effettuati risultano 4.109, i casi positivi 1.567, di cui in provincia di Pesaro e Urbino 910 casi. I ricoveri in terapia intensiva sono 119, 32 a Marche Nord, 29 al Torrette di Ancone e 5 a Urbino, mentre i ricoveri in semi-intensiva sono 145. I ricoveri non intensivi sono 435, i casi domiciliari 4.408, di cui nella provincia di Pesaro gli asintomatici 1.601 e sintomatici 371. I ricoveri in degenza e post-critiche salgono a 58 casi rispetto ai 29 di ieri, i dimessi invece sono 39 nelle Marche. Ed è morto all'età di 76 anni Alberto Berardi, uno dei protagonisti in assoluto degli ultimi 50 anni della vita civile, politica, culturale di Fano della provincia e non solo. In tutti i campi dove egli ha operato vi ha messo la passione, la competenza, l'amore per quello che faceva e l'amore per la sua Fano. È deceduto all'ospedale di Senigallia, dove era ricoverato per aver contratto il coronavirus, anche se era già malato da tempo. È quasi impossibile riassumere l'immensa attività, i ruoli, gli incarichi, gli studi e le pubblicazioni che Alberto Berardi ha svolto in oltre mezzo secolo di vita pubblica. Laureatosi in pedagogia all'Università di Urbino, ha insegnato lettere a generazioni di fanesi all'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano e sociologia della comunicazione alla stessa Università Urbinate. Entrato giovanissimo in politica, nelle file del Partito Repubblicano Italiano, è stato per 20 anni consigliere comunale, dal 1970 agli anni 90, nonché assessore alla cultura dall'85 all'88 e per 15 anni consigliere provinciale dall'80 al 95 e assessore alla cultura e pubblica istruzione della provincia di Pesero e Urbino. In quest'ultimo ruolo, grazie ad una felice intuizione, diede vita al progetto Flaminia, l'itinerario archeologico che lega ancora oggi le città attraversate dalla via consolare romana. Il segretario del Partito Repubblicano Italiano Regionale ebbe l'opportunità di portare a Fano diversi esponenti del suo partito, tra cui il presidente del Consiglio Giovanni Spadolini. Ma il suo nome è legato soprattutto al Carnevale di Fano, che ha seguito con grande trasporto durante tutta la sua vita, ereditandone in questo caso la passione dal padre Enzo. È stato per anni presidente dell'ente manifestazioni, vicepresidente della Carnevalesca, presidente della Federazione Carnevali d'Italia. Fu Berardi ad abolire l'ingresso a pagamento. Sempre in ambito culturale, Alberto Berardi è stato presidente del Centro Studi per Ticari di San Costanzo, presidente dell'Associazione Regionale Le Cento Città, vicepresidente della Fondazione Gioacchino Rossini di Pesero e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Una delle sue ultime battaglie, portate avanti con grande capacità e ardore, è stata quella del ritorno dell'Isippo a Fano, la celebre statua dello scultore greco per la quale Alberto Berardi, d'intesa con l'avvocato Tullio Tonnini, riuscì a portare in tribunale italiano il Paul Getty Museum di Malibu, in California. Dotato di una forte vis polemica, corsivista implacabile di vizi e virtù del nostro vivere comune, per anni sul resto del Carlino e sul Messaggero, trascinatore entusiasta in ogni sua impresa, Alberto Berardi ha sempre anteposto a tutto il bene comune, in particolare quello della sua amata Fano. Lascia decine e decine di libri, pubblicazioni, ricerche, studi, articoli su un'infinità di argomenti di politica, sociologia, storia, letteratura, arte, cinema, poesia e folklore fanese. Alla moglie Luciana e ai suoi familiari, le condoglianze della redazione di Fano TV. Tamponi, tamponi non a tappeto come in Veneto, ma fatti in modo estensivo agli asintomatici, gente che ha avuto contatti con positivi al coronavirus e che si trova in quarantena e agli operatori sanitari. Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ribadisce la sua intenzione di estendere i test, non solo ad Ascoli Piceno, ma anche a Marche Nord, dove c'è un macchinario in grado di processare anche 800 tamponi al giorno e che verrà usato per gli operatori sanitari di tutte le Marche. Avremo così tre tipi di attività, dice Ceriscioli. Una che continua, come oggi, sui sintomatici, un'altra per gli asintomatici, che hanno avuto contatti con i positivi, e una per gli operatori sanitari. La regione Marche realizzerà le tre attività con personale proprio. Non facciamo il tampone a tappeto, conclude Luca Ceriscioli, come ha fatto il governatore del Veneto, Zaia, ma su categorie ben precise. La polizia locale di Fano stringe i controlli per i furbetti del coronavirus. Per contrastare chi esce senza un valido motivo dalle proprie abitazioni, utilizzerà anche le oltre 80 telecamere che sono state installate in tutta la città. Vediamo. Nonostante i reiterati appelli di amministratori, primo cittadino sanitari o semplici cittadini, nonché artisti locali, sembra che alcuni non abbiano compreso a pieno la portata di questa emergenza e le condizioni nelle quali stanno operando medici e sanitari. È innegabile che esiste un abisso tra ciò che si consuma dentro le strutture e ciò che avviene fuori dalle mura degli ospedali. Sì, le città sono in queste ore deserte, si fa la fila ai supermercati o agli uffici, posta e banche, ma ancora tanti sono coloro che trasgrediscono, lo dicono, i numeri dei controlli riportati dalla prefettura di Pesaro. Nonostante in questi giorni di emergenza la fruizione di molti luoghi pubblici e stati temporaneamente inibiti o limitati il loro accesso, cimiteri, aree sportive, alcuni parchi sono indiversi che stanno continuando a malinterpretare le indicazioni e a non contribuire come potrebbero, evitando uscite evitabili e non necessarie. Per questo allora a mali estremi e estremi rimedi e l'amministrazione comunale ha così intensificato i controlli. Quello che si chiede alla cittadinanza e sulla quale noi stiamo monitorando da ieri con maggiore, diciamo così, attenzione e con più presidi è quello di collaborare, è quello di collaborare cercando di evitare al minimo le uscite perché sono occasioni di contagio che mettono a rischio la propria salute e la salute dei propri cari più fragili, facendo carico ancora di più sul nostro sistema sanitario che è massimo allarme. Restate a casa, uscite solo se strettamente necessario per lavoro, per acquisti di genere alimentari o medicinali. Se dovete uscire di casa, mantenete le distanze con altre persone. Il coronavirus possiamo fermarlo solo insieme. Quindi parchi, aree periferiche o di campagna, spiagge, compreso anche l'arenile, monitorati sette giorni su sette con un operatore fisso in sala monitor al comando della polizia locale che tiene sotto controllo contemporaneamente molte aree cittadine attraverso l'utilizzo di oltre 80 telecamere e questo in costante dialogo con le tre pattuglie sul territorio. Noi mettiamo in campo ovviamente il servizio. Abbiamo tre pattuglie che presidiano il territorio e tre intendo nel turno del mattino e nel turno del pomeriggio. I controlli che facciamo sono prioritariamente quelli dei movimenti, degli spostamenti perché i decreti sono molto chiari, vietano di spostarsi se non per necessità e i controlli devono essere fatti affinché questo venga garantito. Perché poi vengono messi in campo questi controlli? Perché abbiamo anche continue richieste da parte delle autorità sanitarie che si raccomandano di far comprendere alle persone il più possibile di rimanere a casa perché siamo veramente in un'emergenza sanitaria. Per segnalare inoltre alla polizia locale situazioni di assembramento informazioni c'è un numero verde 800 094 141 oppure anche comporre lo 0721 88 77 21 che è il numero del centralino del comando della Polizia Municipale di Fano. E batte forte il cuore degli imprenditori e gli industriali della provincia pesarese. In pochi giorni hanno raccolto e reso disponibile la cifra di 300 mila euro che sono stati dirottati su due investimenti. A Durbino sarà allestita una unità con 13 letti per terapia subintensiva destinata ai pazienti affetti da coronavirus e dove arriverà una macchina portatile per radiografie polmonari d'urgenza. L'altro fronte invece è sugli ospedali di Marche Nord dove arriveranno nuove centraline per il controllo dei parametri vitali dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Lo ha annunciato il Presidente degli Industriali di Pese d'Urbino Mauro Papalini aggiungendo che la raccolta fondi va avanti perché continuano ad arrivare diverse telefonate di colleghi anche non associati pronti ad impegnarsi a favore e in favore del sistema sanitario pubblico della nostra provincia. Sul decreto Cura Italia sono intervenute le associazioni di categoria che chiedono più aiuti economici alle imprese in difficoltà. Secondo la CNA il decreto Cura Italia contenente le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia è solo un primo passo. Le risorse, seppur importanti, 25 miliardi di euro non sono però all'altezza di quello che deve essere una manovra più robusta, più corposa delle misure di sostegno all'economia molto più impattanti. Sono un po' deluso dal fatto che la nostra provincia la provincia di Peso Urbino non abbia avuto quella menzione particolare perché altre situazioni ci sono state di differenziazione rispetto anche ad egevolazioni ma lo aspettavo anche per la nostra provincia e questo lo ritengo non giusto. Il grido di allarme dell'associazione che in provincia rappresenta 5.400 imprese è rivolto alla vendita di generi alimentari e prima necessità che sono a rischio per assenza di mascherine per i lavoratori all'interno delle aziende. La CNA di Pesaro Urbino denuncia questa situazione paradossale inviando due sollecitazioni urgenti alla giunta regionale delle Marche e alla protezione civile regionale. L'emergenza primaria di chi produce alimentare settore alimentare, anche degli stessi supermercati che rischiano di chiudere perché non ci sono le protezioni e le mascherine quindi subito dopo la sanità bisogna che anche le aziende che producono nella filiera alimentare di primissima necessità e anche i supermercati ne vengono immediatamente dotati altrimenti rischiamo davvero di rimanere senza cibo e questo sarebbe un ulteriore dramma rispetto a quello che stiamo vivendo. La Confcommercio chiede invece un sostegno economico anche per le attività che secondo il decreto possono restare aperte e che oggi secondo la categoria subiscono un calo degli incassi dell'80% in meno rispetto a un fatturato normale. Alcune misure vanno bene ma ce ne sono altre che comunque non sono sufficienti e sulle quali bisogna sicuramente intervenire. Quindi bene la cassa integrazione per le aziende anche sotto un dipendente la cassa integrazione in deroga bene la sanità bene gli aiuti alle famiglie la sospensione anche dei tributi previdenziali quindi anche per quanto riguarda tutti i tributi ma ci sono delle cose che assolutamente non vanno bene e che comunque sono insufficienti. Innanzitutto diciamo che posticipare comunque di due mesi sicuramente i pagamenti non sarà comunque sufficiente per la ripresa. Anche per quanto riguarda gli incentivi per gli autonomi, per i professionisti 600 euro sono veramente pochi e inoltre anche il credito d'imposta del 60% per quanto riguarda le locazioni anche in questo caso è insufficiente per alcuni aspetti nel senso che è identificato per botteghe e negozi ma non vengono poi diciamo messi alberghi, ristoranti, bar e questo è un punto che è importantissimo. Secondo l'associazione di categoria bisogna creare anche un fondo perduto di liquidità per la ripresa economica delle aziende in difficoltà oltre a dare ulteriore aiuto ai comuni con un secondo decreto per poter assistere imprese a livello territoriale. E adesso parliamo di farmaci La Croce Rossa italiana ha lanciato a livello nazionale un servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi il servizio è attivabile tramite il numero verde nazionale oppure attraverso il numero diretto del Comitato di Pesaro per contattare la sala operativa locale e chiedere il servizio che sarà attivo dalle 9 alle 19. E adesso cambiamo argomento parliamo un attimo del tempo il tempo che è destinato a cambiare nelle prossime ore la prossima settimana è previsto almeno stando ai calcoli delle ultime proiezioni dovrebbe arrivare neve neve anche a bassa quota allora per sapere qualcosa di più e come evolverà appunto il tempo ci colleghiamo e vediamo che cosa ha da dirci Francesco Cangiotti di Geometeo.it Dopo questi giorni caratterizzati da condizioni di tempo prettamente primaverile con la presenza dell'alta pressione che ancora ci terrà compagnia fino alla giornata di sabato i modelli meteo sembrano intravedere invece per gli inizi della prossima settimana un vero e proprio colpo di coda invernale questo perché l'alta pressione tenderà a distendersi sull'Europa centosettentrionale e sul suo bordo meridionale correnti fredde in arrivo dai Balcani e dalla Russia tenderanno tra la giornata di lunedì e quella di mercoledì ad arrivare sul nostro territorio appunto portando con sé queste masse d'aria gelida che determineranno nuove condizioni invernali ecco qui possiamo vedere la carta che mostra appunto la situazione per mercoledì prossimo quando proprio il nucleo di aria fredda sembra arrivare sul nostro territorio queste sono invece le temperature previste alla quota di 1300 metri si vedono dei valori decisamente molto freddi infatti abbiamo un isoterma di meno di 10 gradi prevista per le prime ore di martedì questo appunto potrà determinare un aumento dell'instabilità con delle precipitazioni sotto forma di rovescio che viste proprio le temperature su valori anche inferiori allo zero potranno assumere carattere nevoso anche a volte possibili ricordiamo appunto che oggi mancano ancora diversi giorni all'evento e quindi la previsione attuale mostra ancora dei margini di incertezza quindi dovremo via via aggiornarci poi nei prossimi giorni seguendo l'evoluzione dei modelli quindi vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti per vedere se tale tendenza sarà confermata oppure ci saranno dei cambiamenti per sostenere il personale sanitario che ogni giorno è in prima linea nella lotta al coronavirus la banca di credito cooperativo di Fano in accordo con il direttore generale dell'azienda ospedali riuniti Marche Nord Maria Capalbo ha deliberato di donare due monitor defibrillatori per la defibrillazione esterna manuale e semiautomatica che si sono resi urgentemente necessari per monitorare i pazienti ricoverati per l'epidemia di coronavirus i dispositivi sono dotati di una particolare tecnologia che modula automaticamente la tensione e la durata della scarica per adattarla alla resistenza elettrica del paziente misurata immediatamente prima di ogni scarica i macchinari del valore di 40.000 euro saranno destinati all'ospedale Santa Croce di Fano in piazza 20 settembre nella chiesa di San Silvestro c'è un quadro che ritrae la Madonna di piazza a cui i fanesi da secoli si rivolgono per chiedere la grazia soprattutto in caso di calamità naturali o di pericolo e a lei, a questo quadro a questa immagine hanno pregato in tanti anche per liberarsi e per guarire dalla peste è dedicata a San Silvestro Papa ma è nota anche come Madonna di piazza per il dipinto che ne abbellisce l'altare e si trova in piazza 20 settembre a Fano e ne costituisce l'unico edificio religioso la chiesa è una delle più antiche del centro storico risalendo al XII secolo sull'altare maggiore è collocato appunto il dipinto della Madonna di piazza del 1606 attribuito a Giovanni Beglione venerata anche dal corpo della polizia municipale che fino ad un decennio fa celebrava qui la ricorrenza della sua fondazione la Madonna di piazza è sempre stata invocata in più occasioni dai fanesi che si sono rivolti a lei in occasioni di particolare pericolo o calamità nell'anno 1855 il colera si diffondeva largamente e con esito letale a Fano anche allora i fanesi ricorsero alla celeste protrettrice Maria Santissima della Speranza e si proposero di ampliare e abbellire il tempio difatti l'opera fu compiuta nel 1862 come ricorda anche la lapide con iscrizioni in latino che campeggia sulla porta della sagrestia e il tempio fu consacrato il 15 giugno dal vescovo di Fano Monsignor Filippo Vespasiani nel secolo scorso nell'ottobre del 1918 quando la terribile epidemia della Spagnola infieriva terribilmente tra la popolazione la santa immagine della Madonna della Speranza fu privatamente trasportata in Duomo per un solenne triduo poi quando si trattò di riportarla privatamente nottetempo nella sua chiesa la notizia trapelò tra la gente e il Duomo fu assediato dalla folla e sollevato il quadro da alcuni soldati fu riportato a San Silvestro senza pompa magna e senza lumi ma seguito da centinaia di persone silenziose e commosse questa è la preghiera probabilmente scritta per l'epidemia del colera e pubblicata su una immaginetta nel 1931 con l'imprimatur del vescovo di Fano protretrice del popolo fanese madre della santa speranza Maria Santissima per la cui potente intercessione da noi implorata avanti alla vostra prodigiosa immagine si è tante volte placato il vostro divin figliuolo rimanete con occhio propizio su questa città proseguite ad usare verso di noi la vostra materna assistenza e liberateci da tutti i pericoli dell'anima e del corpo e restiamo in tema di spiritualità domani sera domani giovedì c'è un appuntamento importantissimo alle 21 la recita del santo rosario in diretta in tutta Italia dalla santa casa di Loreto nelle Marche saremo noi di Fano TV a trasmettere questo importante appuntamento al quale non dobbiamo assolutamente mancare anche se non tutti sono abituati a pregare il rosario è un evento un appuntamento che è coordinato con tutta la chiesa italiana con la conferenza episcopale dei vescovi a guidare il rosario domani ci sarà Monsignor Fabio Dalcina che è l'arcivescove delegato pontificio di Loreto Dalcina che ha invitato non solo i loretani ma tutti i fedeli tutti i fedeli d'Italia ad unirsi in preghiera e ad apporre alle finestre un drappo bianco oppure ad accendere una candela in segno di comunione e di preghiera dunque appuntamento domani sera alle ore 21 ma per chi volesse già dire il rosario tra poco dopo il telegiornale sempre in diretta dalla Santa Casa ci sarà appunto questo momento di preghiera in diretta noi ci salutiamo qua ci vediamo domani mattina subito dopo la messa del Papa da Santa Marta in Vaticano e alle 7 e mezzo 7.45 con la rassegna stampa Occhio ai giornali grazie per essere stati con noi buona serata a tutti